salve a tutti ecco a voi le afformazioni per attrarre ricchezza nella vostra vita le afformazioni secondo le teorie girano il sistema di protezione del subconscio sorpassando blocchi e le credenze limitanti attivando così un sano ragionamento mentale puntato alla ricchezza per chi non conoscesse le afformazioni in descrizione troverà un link dedicato il consiglio è sempre quello di utilizzarle per almeno 21 giorni così da creare nuove abitudini mentali se vorrete ripeterle a mente o a voce la scelta sarà vostra iniziamo perché sono ricco perché attrago a me molti soldi perché riesco sempre a guadagnare molto in maniera piacevole perché sono una persona di successo perché sono una persona di successo perché i soldi sono attratti da me perché fare soldi è facile e veloce perché attiro ogni giorno della mia vita amore pace felicità salute fortuna benessere ricchezza e successo perché sono ricco perché sono ricco perché attrago a me molti soldi perché attrago a me molti soldi perché riesco sempre a guadagnare molto in maniera piacevole perché sono una persona di successo perché sono una persona di successo perché i soldi sono attratti da me perché fare soldi è facile e veloce perché attiro ogni giorno della mia vita amore pace felicità salute fortuna benessere ricchezza e successo perché sono ricco perché attrago a me molti soldi perché riesco sempre a guadagnare molto in maniera piacevole perché riesco sempre a guadagnare molto in maniera piacevole perché sono una persona di successo perché sono una persona di successo perché i soldi sono attratti da me perché fare soldi è facile e veloce perché attiro ogni giorno della mia vita amore pace felicità salute fortuna benessere ricchezza e successo e 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